Lusiana Conco ha rinnovato il consiglio direttivo del Circolo Culturale Palazzo Fincati di Santa Caterina, riconfermata la presidenza Valle Calligaro che per il prossimo triennio sarà affiancata da Mariano Dalleno Gare, Gloria Novello, Bruno Banzato, Ketty Chiomento, Nicolette Zanforline e Alessandro Busa. Il rinnovato gruppo continuerà a promuovere e sostenere attività sociali e di solidarietà, soprattutto legate alla terza età, con un coinvolgimento sempre più attivo dei giovani, parte fondamentale della comunità locale.